e salve a tutta la gente di youtube io sono indy e benvenuti in questo nuovo fantastico video oggi sono qui su murder modalità di gmod e siamo sulla mappa five night at freddy e sto stando io quindi se vedete la gara è normalissimo normale come chissà cosa e oggi sono qua con quattro tre persone abbastanza pazze e maniace e altre cose come la conoscete che si chiama christian che è entrato quando aspetta quando è stato su iden idem sì c'è uno viola era quella che urlava e faceva xina avete presente c'è uno viola sulla telecamera bellissimo e io non sono spawnato non sono ma anche tu sei viola ora mi puoi dire che mi... ok non entro non puoi entra, entra, dentro ok, entra cosa vuoi? oddio, l'ho visto, l'ho fatto di merda anche sulla telecamera eeeh... andiamo così, no, così ok eeeh... ho sentito qualcosa ho sentito qualcosa Dima non ti consiglio di stare lì che ti nasce il coniglio in quel punto lì no, è chiuso però, non pensavo che era chiuso eeeh... siamo nella mappa di Five Nights at Freddy's per chi conoscesse un gioco horror dove ci sono dei pezzetti ai tip pezzetti pucciosi carini sì, carini e cor... oh, corosi! manca uno già, cioè... christian, sono aperta eccolo, l'ho visto sulla telecamera ciao scappa scappa il coltello, scappa no, 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 ricarica, ricarica è morto? è ancora vivo! ahahahah ahahahah oddio ma questa pistola è più tarocca, non so io ero B-Stunder ah, ma va bene ahahahah se lo dici tu? oh, dai, lasciatelo iniziare sta cacchio di partita ah, lo so io allora fa un culo, perchè? oh mio dio 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 aspettate, mi suona al telefono ahhh perchè sono sottoterra? che cosa è successo? no no, no, no non mi ammazzare, non mi ammazzare non mi ammazzare ho, ho visto uno volare perchè? perchè Christian fa così? non mi ammazzare tock tock amplify così toc, toc c'è qualcuno qua dentro Sì, è Luca che ha fatto male alla pena, porta Ok, scusate, è la mia madre Mamma nonni, perché quando sei morto? Che cazzo ha fatto november? E november, la città si è spostante No, mi ha fatto subito il november, che c'è? No, no, sono la bitch, sono la bitch, aprimi, sono la pistola Ah, ok, pensavo che era un coltello quello Che siamo la fucking bitch Perché sei sparito? No, no, blu, 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 blu Blu, aiutami, aiutami, no, no, lag, aiutami, no Vado sui cappellini Ho vinto, sì o no? Vai verso la security No, 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 no Corri, corri, corri Corri verso la security Addio Charlie Perché dici help? No, 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 no Ho perso la security Poca cosa Quanto fa Eccoci ritornati dopo aver fatto un piccolo crash Chissà che perché Ma qualcuno ha coltellato un altro E è successo il fin di mondo Causando una bomba atomica Perché ha fatto una fissione Ha fatto una fissione dell'atomo del mio computer Si sono divisi Oh, cazzo Quindi mi sa fa male la testa Non sono qui io Io non sono qua Ti martello con l'armadio Cosa? Mi stai facendo male No Arena Karuki Naki Rishine Oh, cazzo È occupato Ah, ma posso entrare? Ma stavo leggendo È occupato Mi serviva dovevo cambiarmi Potevi dire permesso Anche no No, basta Ok, devo nascondermi Devo nascondermi Adio, adio, adio Mi sa che sono buggato da qualche parte in un armadio Ma scusate Sta casa qui è tutta vuota Chi è? Perché c'ho Qualcuno mi vede Ma è murder o è sandbox? È murder È murder Come sensi? Pa, pa, pa Sta casa è più È più vuota della ciotola del cane di indie Ma cosa? Ma perché? Va bene Ok Aiuto, aiuto C'è un topo in cucina Aiutatemi Sono sopra il frigo Ciao In India Meno 20 gradi Ciao India Che è in India Hai uno sguardo terribile Oh, cazzo Oh, cazzo Che è fucka Ha 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 No, cazzo Realmente sono entrato Sto laggando un pochino Ma va bene Tu sei il bestander, attenzione, ci sono i miei modelli What? Mi inglese stesso Lima, la vedete le palle Wow, hai fatto un quadro Mi sono comprenetato Conto un'altra persona Si, comprenetrato Compenetrato, che così frase è Che frase imperfetta Juliet, Juliet Ok, io mi metto in divano e sto al sicuro Ma perché? No, 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 no Non è fatta Bermuda Vedo tutto nero Ah, è caduto morto Il Papa è un assassino Il Papa è un assassino Hai fatto un calestro contro la tv Oddio Tipo ti ho lanciato Stato contro la tv che si ribalta Ma io stavo ragando No, la tv nuova Oddio, oddio, oddio Oh no, posso aprire il frigo È tutto blu Nel figo Ma va bene La televisione Televisione Che era che non ho visto? Non ho visto il nome Che leggeva Il cane fiero di inn Ti mangio Ma accuccia Accuccia Vai nell'armadio Vai nell'armadio Vai Voglio trovare il caprone di Narnia Ok, il resto là dentro Io mi nascondo Io ho troppa paura Io ho qualcosa nel sedere Io sono qui a paura Sai che ti trovo lo stesso Il martyr, vero? Con l'importo Oh, oh, che cos'è? Fermi Che cos'è? Sto bloccando della porta Sì? Ma va E tu che ti facevi qui? Eh, niente Sto lagando Ma non mi accorgo Nel meno Cosa succede? Sono solo con il martyr, vero? No No Sento uno splat E mi vedo morto Una cosa che non capita tutti i giorni Indy, ma dove sei? No, la domanda è Dove si trova l'altro? È scomparso Ah, no, è in Perché chi è? Che cos'è? Ah, è una cucina Ma è bucato? No Ma non c'è da mobili È vuota sta casa Infatti È più vuota di un culo di un bambino Come fai a saperlo tu? Rosso Ah, però c'è il cuginetto a cui guardi il culo ogni giorno No, lima, lima, lima Lima, 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 ancora lima, no Vieni, ti lascia andare Ti prego Ti prego, lima No Nel muro sopra Si è splazzicato contro il muro Vedi, quell'urlo lo fa tanto quanto glielo mettono in quel posto Il suo gatto Ma bravo Ma perché ci sono gli spam point? Sì Sì Ma bravo Ok, io sto qua dentro Io sto qua dentro Io sto qua dentro Mmm Ma prima Ma prima Let me take a selfie Ecco, non riesco più a dirlo A shish 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 Dove sei? No, non te lo dirò mai dove sono Ho capito dove sei, eh Dove sono? Ui No No Cosa? No, stanno parlando con i miei coin Dove sei? Ma capito dove sei Dove sei ora? È quel tostato pane in bagno Sono un tostato pane, seriamente? E, aspetta, un tostato pane in bagno E', la domanda che mi faccio tutti No, no, no Cattivo cane, cattivo cane Cattivo cane Aiuto Ma che crudeltà A che punto può arrivare la crudeltà umana Ma ero dentro un'armadio Cosa? Cosa è successo? Ma no Ma ero il martire, muoio Sì, e sei morto per Ah, è che ti ho ucciso io perché ti ho schiacciato Perché l'ho iniziato round? Perché ho ucciso Indy, cos'è caso Con il mio malissimo corpo E perché io sono nato morto? Di nuovo, è Indy Ok, allora Lo so, fanno cagare che si cala Dopo cambiamo la mappa È morto da solo in verità, è morto Sì, ma avete conto che siete solo voi due, vero? Eh, allora Ok, cambiamo la mappa No, ok, no Ma basta che io voglio morire Ma è Giorgia che urla, smettila Giorgia che cura, è felice, è soprato No, per favore Voglio morire di infarto Perché è morto delta? Christian, tu, la tua ciccia Mi schiacciate? X-ray Non girarti Non girarti Perché scappi così? Zulu, zulu Lasciano entrare nell'arma Si tratta di suicidio Come morto Ah, ma sei sui 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 No, allora, devi piantarla Devi piantarla Christian di ammazzarmi Lui è la sua cizia Lui è la sua cizia Ma che sta succedendo in questa casa? Paranormal activity Non lo faccio apposta Che palle! Oddio, ho tenuto uno a sparare No, Victor, 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 Victor Bravo Aiuto Chi è quello con la pistola? Io È Victor, Victor Che io ho ammazzato un tizio perché È Victor, sta giù, è Victor È Victor Giù dove? Non c'è giù Giù, giù, giù Stiamo io, bravo Ma come? È Victor Sei, sei, sei tu, Victor Mongoloio di merda Eccolo! Ho crashato, sbaglio What the fuck? Cosa è successo? Ah, ok Ahia Cosa è successo? Ma vai! Scusa, Indy, di nuovo Non l'ho fatto La gente viene uccisa da murder Ma perché ci sono due murder? Dovebbe essere uno Indy, mi dispiace Ti ho ancora ucciso Eri tu, Indy? E cosa? È Romeo Sa che non è Romeo? Beh, Zito Come è volato? Indy, perché mori sempre per colpa? Ma perché tu sono ciccia? C'è ciccione Qua c'è? Ho ciccio la P-Nex Cambiamo mappa, ragazzi Cambiamo mappa Va bene? Non vogliamo più ciccioni Quetteria Mappa data Non è data poi ciccioni Mappa Non mi lo pucine Ahahahah Chi ti sta seguendo lì? Sto seguendo il tuo impronte Ahahahah Guarda la roba Perché se ride O io ride anche lui Indy, che stai facendo tu cugino? Smettila Eeeh Non fare il giro dell'oca Neanche se fosse un gatto Che si rincorre il cane Stai fermo un attimo E rincorre il mio iper bene Perché se no non è di me Ma aspetta L'impronta erano me Sei stupido Ahahahah Era lì che continuò a girare intorno a sé Ahahahah Neanche se fosse un cane con Vabbè Io ho esso Non problemi mentali A seguire le stesse sinti Dietro di te Ahahahah 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 Nomnomnomnom Nomnomnom 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 Ma da una spavna Oh Pam 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 O io pam 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 Oh ragazzi venite a fare Ragazzi venite a fare tuffi in piscina Venite qua Tuffi in piscina Ah io vado a fare tuffi in piscina C'è questo qua C'è questo con la maglietta verde Che è molto sospetto Perché ho visto una cosa che non doveva vedere C'è questo con la maglietta verde C'è questo con la maglietta verde C'è questo con la maglietta verde Non c'è questo con la maglietta verde Si è qua guarda Ah lì si ho capito che mappa Ok ok C'è il verde che sta arrivando ad uccidermi Il verde sta arrivando ad uccidermi Non mi avrai mai Non mi avrai mai Non mi avrai mai Non mi avrai mai Come il verde viene ad uccidermi Mi ricordo Non so chi è Ah è cosa No non è Zulu Chi è Non lo so Zulu Fa vedere il tuo nome Fa vedere il tuo nome Ah è novembre Ok Grazie a chi mi ha salvato la vita Mi ha salvato la vita Ti sento veramente gratis Si ma era il tizio che ti stava incorrendo Scappavi da me che ero con armato Indie Metti i cicci Let me No Perché Indie è crashato Non sono crashato È andato agli spettatori Perché è un fagiole Perché mi ha detto spaventato Perché è un FIDIP Ruffo your life Ruffo your life Ruffo your life Minchia che è che spara le pesaglie a random Cosa Adesso basta Now it's the time of the lunch Now it's the time of the lunch My mother would cry In access Ok questa è la penultima partita E poi dopo finiamo un po' così Questa partita Questo gioco Io vado a mangiarmi una bella viennetta Vai pubblicizzo le viennetta Hotel Hotel Ah scusa Cazzo sei pazzito Eh no Sono stato L'ho assaltato Pugisilo per l'amor di dio Aia Come spiegati che cavolo di nome è hotel Per me adesso Per me è Christian adesso il martyr Perché? Non lo so Tu sei troppo Tu sei troppo Puttana Eva Tu sei troppo Grazie Indy No No Un applauso di Indy Che ha fatto uscire tutti Ok Per me è Luca adesso No Luca e tu chi sei ora? Io sono Bello con la pistola No 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 Mi dimenticherò No Guarda Papa tipo Come Goku Fermo in piedi Guarda che sei tranquillo Ok Brobs o no? Mi si è in bisogno Guarda 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 No, no, no Oh, ciao Lima Lei ha detto il cazzo, India Lei ha detto le palle India, Indy, coincidenze Non credo proprio Jai Ma cambiamo modalità Lasciamo sempre questo Ma dai dai finisco così con questo video Poi magari facciamo un altro Poi vado a mangiarmi un bel maxibon Mi vedo colpiamo io Sì, scoppiamo indi Sì, sì, sì No, no, no Vado, vado Quindi Nel dipende schermo il tutto sentiamo alla prossima Servi, anzi un aspetto a che finisca Non ho visto che era finito Tantantantantant Tu c'è la cazzo, c'è la cazzo, c'è la cazzo, la vada da amazzare Perciò io Grazie, grazie è morto scarso è morto e altro quindi prima di andare ma devo fare una cosa perché c'è sincriste che sto scrivendo ok che stavano bici per ammazzarli tutti 15 settembre alla prossima a 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